amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino torniamo come ogni settimana ad occuparci delle vicende della roma visnova formazione capitolina impegnata nel campionato di serie 1 maschile e per farlo c'è con noi il mancino della formazione allenata da alessandro calcaterra ante viscovi ciao ante benvenuto grazie di aver accettato il nostro invito grazie a te ante io inizio la nostra chiacchierata chiedendoti con quali indicazioni la roma visnova mette in archivio la beffarda sconfitta di misura subita contro l'ira in genova quinto nell'ultimo turno match nel quale a meno di due minuti dal termine eravate sul più due se non sbaglio il gol del 9 7 era stato proprio il tuo sì è vero abbiamo perso però va bene abbiamo archivato la partita con un modo positivo va bene abbiamo perso però secondo me siamo stati per 30 minuti siamo stati migliori di loro abbiamo giocato bene secondo me possiamo essere contenti con la nostra partita a Genova a parte il risultato ovviamente certo anche se magari un punticino almeno avrebbe fatto molto comodo per la vostra situazione di classifica sì se le partite durassero 30 minuti invece 32 avrebbero 10 o 12 punti invece quattro che abbiamo però va bene andiamo andiamo adesso cerchiamo la bologna certo e io torno proprio sul finale di gara tu hai sottolineato in con grande puntualità a quanto la vostra prova sia stata ottima per 30 minuti io ti chiedo cosa vi è mancato nel finale per uscire dalla vasca con almeno un risultato positivo si è mancata un po di calma un po di pazienza un po di esperienza soprattutto negli ultimi due o tre minuti quando la partita si decide come ho detto abbiamo giocato bene ottimo per 30 minuti stavo vincendo 9 a 7 due minuti alla fine e poi abbiamo fatto non mi ricordo due o tre orori in difesa c'è un controfallo abbiamo sbagliato uno due uomini più dopodiché loro hanno segnato tre gol e purtroppo hanno visto hanno vinto però non posso dire niente di negativo perché abbiamo lottato dall'inizio alla fine abbiamo dato il nostro massimo e questo è più importante per me assolutamente avrete sicuramente avuto modo di rivalutare il match con mister calcaterra quali considerazioni sono emesse dall'analisi della sfida di genoa sì abbiamo visto gli ultimi due tempi abbiamo parlato principalmente di quegli errori che ho menzionato e la conclusione è semplice più o meno abbiamo giocato bene con i nostri avversari diretti contro possilipo contro camogli contro lastra contro quinto quindi dobbiamo andare avanti continuiamo a lavorare e a credere al nostro gioco per esempio non so quando giochiamo la zona dobbiamo credere al nostro portiere portiere deve credere a noi a zona eccetera eccetera secondo me questo è l'unico modo anche perché a furia di provare a furia di prestazioni positive poi arrivano i risultati si cresce la strada diventa in discesa sì sì è vero d'accordo è una squadra molto giovane c'è stato qualche innesto di esperienza come il tuo dopo l'ultima stagione con la distretti ti chiedo quali sono gli aspetti del gioco su cui deve lavorare questo gruppo per migliorare ulteriormente il suo rendimento dobbiamo penso che noi possiamo migliorare in tutti gli aspetti del gioco come tu ho detto siamo più o meno giovani ma in questo momento i nostri problemi più grandi sono uomo in più e tornare in difesa quando non segniamo dopo la quella situazione perché di solito è l'avversario che segna la contropiede come ha segnato quinto l'ultimo gol della partita dopo il nostro uomo in più hanno fatto il contropiede e hanno segnato quindi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo tornare leggermente in difesa essere lucidi fino alla fine ma possiamo metterla anche così sì ma comunque sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra perché per alcuni di loro quelle partite sono le prime in A1 penso che siamo migliorati in rispetto dall'inizio del campionato e dobbiamo continuare a farlo certo vi attende ora l'importante confronto diretto a Monte Rotondo contro la De Hacker Bologna che partita sarà secondo te quella con i bolognesi? sì c'è una partita importante ovviamente ma decisiva contro una ottima squadra tutte le nostre partite con avversari diretti si decidono negli ultimi minuti lo stesso è stato contro Possilipo contro Lastra contro Quinto penso che sarà lo stesso con De Hacker quindi sarà una battaglia fino alla fine soprattutto perché sabato loro hanno perso in casa contro Lastra e saranno motivati a fare un buon risultato a Monte Rotondo è una squadra con tanta esperienza guidata da ottimi giocatori come Longo come Milakovic come Camilleri come c'è troppo Alfonso e c'è un bravo portiere Santini l'unica cosa che noi dobbiamo fare è dare il 100% e fare quello che ci ha detto il mister su quali armi deve puntare la Visnova per provare a conquistare i tre punti? scusami non capisco dal punto di vista tattico dove si decide il match? ok 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 dove si decide il match? secondo me molte partite incerte si decidono dalla superiorità numerica penso che sarà lo stesso anche contro D'Hacker possiamo vedere che gli arbitri fischiano tante espulsioni a due metri con la palla a due metri senza la palla dall'esterno e la tendenza è questa e quindi noi dobbiamo essere bravi quando abbiamo la superiorità numerica per esempio contro i possibili il nostro uomo in più era mi sembra 5 su 20 quindi se lo miglioriamo un po' magari 45-50% sarebbe ottimo certo però inoltre verrà deciso in tutti gli altri aspetti del gioco ovviamente noi dobbiamo essere bravi e tranquilli per quattro tempi per 32 minuti non 30 minuti perdiamo, vinciamo, dobbiamo giocare allo stesso modo e tutto che facciamo deve essere fatto con un senso e secondo me questa è la differenza tra andare a play out o play off va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Ante Viscovic per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Ante, grazie mille grazie Ante, ciao, buona giornata grazie a tutti